Leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia e architettura sono nobili professioni necessarie al nostro sostentamento, ma poesia, bellezza, romanticismo, amore sono queste le cose che ci tengono in vita. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.